Hanno deciso di venire al Binea. Lì allora ho dovuto correre tanto su e giù perché loro avevano sempre qualcosa da organizzare. Erano tanti, poi dopo avevano i russi, quelli di Modena, avevano i russi da organizzare, avevano il battaglione, insomma c'eravamo in tanti quando siamo arrivati lì al Lupo. Siamo partiti da Secchio una notte e siamo arrivati quasi giorno a Valestra, poi a Valestra siamo stati lì, siamo stati lì un giorno, poi alla sera siamo ripartiti alle due e mezzo, eravamo al Lupo, che quando siamo partiti da Valestra quasi quasi eravamo sulla strada di Casina Albinea, si vedeva ancora il serpentone perché c'era tanta di quella gente, fra gli inglesi, poi era con tutti questi, i gufi neri, tutti quelli lì del comando unico, c'eravamo in tanti che ti dico io. E dopo siamo stati tutti i giorni lì, poi la sera dopo, verso mezzanotte o così, sono partiti i ragazzi e sono andati, sono andati giù l'attacco. Ha cominciato a sparare e poi c'era la corna musa che suonava perché loro, loro dicono che quando vanno in combattimento gli inglesi sparano, insomma, cioè suonava la corna musa. Poi dopo, e dopo chi si ha detto? Io non mi ricordo in quante c'eravamo, ma qualcuno c'era. Io e un'altra ragazzina, anche lei una magretina, una piccolina, lì di Villa Minozzo, e ci ha detto che voi avete il compito domani di andare in cerca di feriti perché se abbiamo dei feriti qualcuno deve recuperarli. Allora, niente, poi al mattino noi, appena si è fatto un po' giorno, abbiamo detto adesso cosa facciamo? Non c'è l'anima viva in giro. Nessun partigiano era tornato indietro, nessuno aveva detto da lì. Si vede che tutti erano scappati, ma da tutte le parti, nessuno. Ora abbiamo cominciato subito, ho detto ma ce ne sarà, non ce ne sarà dei feriti. Adesso andavamo in tutta la casa a vedere se c'erano dei feriti. Infatti poi aveva nascosto un inglese che aveva una pallotta nel ginocchio e dentro ha un carro di letame con della paglia sopra e aspettava che venisse un po' sera per spostarsi e che qualcuno andasse a cercarlo. I due feriti, l'inglese Gordon, li hanno messi in una casa d'un fabbro, una specie di ufficina, e li hanno tenuti un po' lì, poi li hanno cominciati a spostare, sempre di notte spostarli un pochino, poi loro li hanno portati a Pallanzano nel Parmense e poi sono venuti l'elicottero a prenderli, che li portavano a Firenze. Questo ragazzo, questo ragazzo eravamo solo noi due e questa famiglia che aveva questo uomo dentro al carro che l'avevano portato lì dei partigiani e poi l'hanno lasciato lì. E dice io, allora abbiamo detto noi cerchiamo dei feriti, allora hanno detto noi ne abbiamo uno. Dopo quando è stato sera, quando è stato quasi sera, hanno detto allora vi portiamo su Casola, che c'era la strada fra Casina e Albinea e c'era proprio un dosso perché poi lì finiva la cresta della montagna e poi si andava giù perché si andava poi in fondo al posto dove poi si andava su Valestra ma era tutta roba di chilometri e chilometri. E questo qui, va bene, noi andiamo su, lui aveva due mucche con questo carro. Quando siamo proprio sulla strada, proprio nella cosa, i tedeschi che erano al rastralamento a Baiso ci hanno sparato. E cominciavano le pallotte a destra e a sinistra. Questo uomo ha preso via il bastone davanti che teneva il carro dell'etame, l'ha lasciato andare giù per terra e poi via con le mucche scappato, via lui. E noi siamo rimasti lì questo ragazzo, poi era detto che ha fatto gli urli perché sa, viene la pallotta proprio dentro il ginocchio, chissà che male. Poi dopo abbiamo aspettato che nella serata qualcuno ci è tornato a prendere. Adesso poi non mi ricordo bene, so che siamo andati a dormire poi in fondo al fosso, è tornato qualcuno a prenderci. Ma eravamo lì con questo qui, l'unico che abbiamo, come ferito, abbiamo ricoperato quello lì, noi. E gli altri più gravi erano andati, erano poi due capi, diciamo, il capitano Lewis e Gordon.